Benvenuti a questo nuovo video, io sono Giovanni e benvenuti in questa puntata particolare dell'estate horror perchè oggi parleremo di un argomento horror ma bensì di un videogioco horror Stiamo parlando di Piggy, un gioco bellissimo su Roblox E' da tanto tempo che non lo portavo sul canale, in questi giorni lo sto rigiocando tantissimo Voglio completarmi tutte le mappe perchè, piccolo spoiler Voglio giocarmele tutte perchè voglio portarvi la storia completa sul canale Il book 2 non mi piace molto, nemmeno i personaggi mi convincono molto Ma il primo, secondo me, è il miglior gioco di Roblox L'ho detto, divertente, strategico, personaggi caratterizzati al massimo, alcuni un po' anonimi Ma, ehi, oggi siamo qua per dire le 20 migliori skin di Piggy, del book 1 ovviamente Quindi, senza perdere altro tempo, vi ricordo di iscrivervi al canale, se mi piace E detto questo, finisco Ci saranno 3 criteri per cui descriverò queste skin Ovvero, l'estetica, il jumpscare, quindi di conseguenza anche l'arma E... Cioè no, il jumpscare e l'arma che hanno Alla ventesima posizione troviamo Pony Pony è una skin molto carina, secondo me L'ho messa però in ventesima posizione perchè Ah, comunque conto le estetiche vecchie, non quelle nuove Perchè sì, alcune sono carine ma preferisco quelle vecchie Pony Pony è carino Praticamente ha un occhio bianco E un occhio infettato Cioè quello con la pupilla tutta nera E poi l'occhio bianco Inoltre, l'estetica non è uno dei migliori Per questo l'ho messo in ventesima posizione Però... Cioè, semplicemente c'è una maglietta gialla L'arma nemmeno Non ha manco senso che ti uccide Cioè una spada di legno Però, comunque, è carino Perchè Cioè, è fatto bene comunque Uno dei migliori Alla diciannovesima posizione Troviamo Schelli Ah, ragazzi, Schelli All'inizio io lo odiavo tantissimo Perchè era uno Innanzitutto uno dei Piggy meno usati E costa un bordello Secondo me non ha senso di costare così tanto E' un Piggy molto diverso dagli altri Ma anche molto semplice Semplicemente alla testa di un Piggy E il corpo da scheletro Il corpo da scheletro Mi fa impazzire E' fatto veramente bene All'inizio lo odiavo Perchè lo trovavo un po' fastidioso Ma poi, ragazzi Veramente fatto molto bene Il Jumpscare E' semplice Quanto poi geniale Non ha nessun'arma Ma va bene così Se no, poi gli avrebbero dato un'arma Che non avrebbe avuto molto senso Ti uccide semplicemente Dandoti tipo una manata in faccia Alla diciottesima posizione Troviamo il Fantasma Non so il vero nome Ma so che è una bellissima skin Anche questa Costa abbastanza Ed è molto Ma molto diversa Dalle altre L'unica skin di Piggy A non avere le gambe Tolta mouse Vabbè Quella è il bot C'è ovviamente Cammini C'è Sembra che voli Ma stai camminando E' fatta bene Molto semplice Sarebbe un fantasma pirata Che ti uccide Con una spada Il Jumpscare E' lui che ti taglia la gola Simile a quello di Pony Ma l'arma E' veramente carina Soltanto che secondo me C'è di meglio Il cappello E' fatto molto bene Anche la skin Eppure a certe volte Anche Trasparente Alla diciassettesima posizione Troviamo due skin Ovvero Devil Angel Sono due skin opposte Uno il diavolo E uno l'angelo Per estetica Preferisco di più L'angelo Perché Secondo me C'è Allora L'arma sicuro La migliore Ce l'è il diavolo C'è il forcone Fatto veramente bene Parliamo prima Del diavolo Il diavolo E' un piggy Semplice Rosso Con le ali E con un forcone In mano Anche questo Sembra che vola Ragazzi ma Veramente E' anche lui Poco usato Mi dispiace Che questi Che questi bei piggy Non vengono mai usati Viene usato sempre Quella merda Del piggy originale Perdonatemi Ma a me la piggy originale Non mi fa impazzire L'arma E il Jumpscare Sono Sono veramente Fatti bene Anche la skin Angel L'arma non mi fa impazzire Ne manca il suono Del Jumpscare Però ha fatto Veramente bene Anche lui Di estetica Lo preferisco Di più al devil Come ho già detto Ma l'arma Se la vince il devil Ma le ho messi Entrame nella stessa posizione Perché li preferisco Ugualmente E era anche divertente Perché uno È l'opposto Di un altro Alla sedicesima posizione Troviamo La tigre Ora Questa è una Delle poche skin Di piggy Che meritano Il costo che ha Perché Anche se l'ho messo In sedicesima posizione È una bellissima skin Parliamo Dell'estetica È una tigre Con gli occhi luminosi Con Un vestito viola E una coda Ora Già per questo Vince Perché la tigre È un animale Che mi affascina molto Ma la cosa bella Di questa skin Sono le armi E il jumpscare Due coltelli Che con il jumpscare Lui prende Gira le braccia E ti uccide Bellissimo Cioè Fa passare le braccia dietro E poi Ti uccide con i Coltelli Fatto veramente bene Anche questo purtroppo Non viene mai usato E A volte lo trovo Un po' anonimo Cioè Non si è dato Molto spazio A questo personaggio Alla quindicesima Posizione Troviamo Il parassita Il parassita Anche questo È un piggy Molto diverso Dagli altri Questo merita Il costo che ha Ma Un difetto Sono gli occhi Non mi piacciono Molto I tentacoli E il jumpscare Invece Secondo me Sono ottimi Come arma Lui usa il suo stesso braccio Un po' come Schelli Ma È molto carino Cioè Parassita Maiale Con dei tentacoli Abbastanza grandi Che non sono per nulla Ingombranti E che Secondo me Fa la sua porca figura Secondo me È la skin Migliore Che costa 400 e passa Perché Cioè È la skin Migliore Che hanno aggiunto Di recente Perché È una delle più recenti Alla 14esima posizione Troviamo Ellie Allora Penso sia L'unico Personaggio Femmina Di questa classe No 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 Poi ce n'è un altro Allora L'elefante Il mio animale preferito Questa skin Il remodel Che hanno fatto Col vestito violano Mi piace abbastanza Ma Il vecchio Quello col vestito giallo È fatto veramente bene Che poi Questa Ellie Come arma Ha Una lancia enorme Quindi Già questo ha vinto Poi anche il suono Nel jumpscare Bellissimo Veramente fatto bene Questo personaggio Ed è anche il bot Della Mappa 9 Ovvero la città Quindi Non ha senso che stia lì Però comunque Ci sta Ci sta Alla 13esima posizione Troviamo Zompig Questo Questo Pig Era uno dei miei preferiti Poi ho imparato Ad apprezzare gli altri Ed è sceso un po' Di posizione Ma continuo comunque Ad apprezzarlo Secondo me È Il Il Pig Proprio Cioè Il modello Di Pig Quello Default Migliore Che hanno fatto Perché È un Pig Normale Soltanto Con vestito Marrone La faccia Verde Con una parte Scheletro E come arma Ha un braccio Scheletrico Wow Bellissimo Parliamo dell'estetica L'estetica Ragazzi Rimanda agli zombie Con la parte Poi Del teschio Fatta benissimo Veramente Bella Però Ragazzi La cosa Che mi piace A parte il suono Del jams Che è L'arma Con cui Ti uccide Che sono Fantastici E la musica Che fa Quando Cioè Quando Cammina Sembra una Canzone Trap Che C'entra Ma Non c'entra Allo stesso Tempo Con Zompig Inoltre Anche questo E il bot Della Mappa 6 Ovvero No La mappa 7 La metropolitana Ci sta Ci sta Alla dodicesima Posizione Troviamo Foxy Ora All'inizio Mi stava sul cazzo Perché in Carnival Mi uccideva sempre Inoltre Penso sia L'unico Personaggio Ad usare Un coltello Piccolino Penso di sì Parliamo È una volpe Normale Con un vestito rosso La cosa che mi piace Però è che È il secondo bot Della modalità Carnival Che Inoltre mi piace anche il fatto Che deve entrare nella sua gabbia Di nascosto Per prenderti la chiave Per fuggire Il suono del Jamster Non è niente di che Ma il coltello con cui ti uccide Secondo me È buono Un personaggio semplice Ma che ho deciso di mettere Perché sia Cioè perché Ha il nome del mio animatronic Preferito di FNAF Ovvero Foxy Ma anche perché Comunque È carino Cioè è fatto veramente bene All'undicesima posizione Troviamo Zizi Allora Zizi È Il personaggio buono Che però è diventato infetto La zebra Che usa la spada E già questo È bellissimo Allora L'estetica Non è niente di che Infatti Non è la cosa Che mi piace di più Del personaggio Vabbè L'arma È quella Che mi piace di più Del personaggio Ma la musica Che fa Quando cammina Mamma Mamma mia Ragazzi Mamma mia Ricorda Tipo le canzoni messicane Dell'epoca Degli spadaccini E il suono Che fa Quando ti ammazza È il suono Di una zebra Ma più aggressivo Con i suoni Della spada Che ti conficcano Bellissimo Veramente fatto bene Questo personaggio Entriamo in top 10 E alla posizione Numero 10 Abbiamo Torture Torture Penso sia L'unico umano Nella storia Di Piggy Perché comunque Non sembra essere Un animale Credente È Non so come si chiama Però comunque È uno che usa Il lanciafiamme Con le bombole Di gas È fatto benissimo È il bot Della modalità Avantosto Ma ragazzi L'estetica È bellissima Con la maschera Poi tutto vestito Con le bombole dietro Il Jasker Con il suono È bellissimo Ma che usa Il lanciafiamme Mamma mia Ragazzi Penso sia l'arma Più bella di tutto Il gioco Inoltre Ti uccidi anche Con il lanciafiamme Proprio bruciandoti Però anche Un po' Non ha senso Perché potrebbe Ucciderti anche Da lontano Ma va bene Va bene Alla nona posizione Troviamo Polei Il poliziotto Panda Ora L'arma Il manganello È fatta bene Sì non è niente di che L'estetica È un panda Travestito a poliziotto Fatto bene Ma a me piace Il modo in cui Si sblocca Perché È una skin gratis Cioè lo è stato Lo potevi sbloccare Completando Il gioco di laser Nella modalità Centro commerciale Sbloccare Sbloccare Secondo me Secondo me È uno dei migliori All'ottava posizione Abbiamo Mr. P Il penso sia Il personaggio Di Piggy Più diverso dagli altri È la patata Però Cyborg E l'estetica È una delle migliori Con il braccio A cannone Tutta la parte Fatta da robot Poi Penso sia L'unico Personaggio Di Piggy Che può colpirti Anche da lontano Perché È il secondo bot Della modalità Pianta Quindi Il capitolo finale Del book 1 Tra l'altro Una delle mie mappe Preferite Ma ne parleremo In un altro video E Penso sia La map Sia Il personaggio Più importante Della storia Di Piggy Perché comunque È lui Che ha dato inizio Al virus Ovviamente Senza farlo apposta Infettando tutti i personaggi Che sono diventati cattivi Lui stesso Per salvare sua moglie Creando il virus È diventato cattivo Inoltre È l'unico personaggio Che può colpirti Da lontano Perché Spara Un cannone laser Che se ti colpisce Ti blocca E lui può avvicinarti Senza Problemi Il Jams Che è uno dei più fighi Con lui che ti prende E ti spara col suo cannone Veramente fatto bene Unico difetto Secondo me È Le ciglia Sull'occhio rosso Non hanno senso E anche il remodel Che hanno fatto C'è Una patata viola Perché Alla settima posizione Troviamo Budgie Mamma mia Budgie È Il bot Della modalità Pianta Insieme a Mr.P Che penso Tiene l'arma Più devastante Insieme a Torcher Ovviamente Perché Parliamo prima Dell'estetica È un panda Vestito abbastanza Elegante Che È Cioè è così È basta E tiene Un occhio verde Ma la cosa Che mi fa impazzire Oltre al Jamsker È l'arma Con cui si uccide Una provetta Con all'interno Dell'acido Non è che lui Si rompe La provetta Addosso Cioè Ci uccide Proprio con l'acido Che sta nella provetta Ed è l'arma Più devastante Perché nella vita Reale Ti scioglierebbe Balgie Inoltre È il secondo panda Del gioco Ma l'ho messo qua Primo perché Il bot È di una delle modalità Più belle Del gioco Secondo me E Anche perché Comunque È un'estetica Bellissima Unica Nel suo genere Ma l'arma Comunque È Una delle più belle Alla sesta Posizione Troviamo Doggy Oh ragazzi Doggy È uno dei miei preferiti Doggy È stata una delle prime skin Che ho comprato È il primo Alleato Che ci troviamo Nella storia Lo incontriamo Alla stazione Ma nella mappa 4 Verrà infettato Dal virus E diventerà Il doggy Che conosciamo tutti Con gli occhi rossi E lascia Lascia Mi fa impazzire Mi fa impazzire Anche l'estetica E anche il modo In cui diventa Perché penso Sia l'unico Nostro amico Che nella storia Proprio è diventato Cattivo Perché Zizi e Pony Sono solo skin Quelle cattive Non è canonico Che sono diventati così E niente ragazzi È uno dei migliori Doggy Secondo me È uno dei migliori Nessuno quasi Se lo caga Costa un po' troppo Secondo me Però ci sta Ci sta Per un personaggio Così importante Alla quinta posizione Troviamo Il soldato Oh Il soldato Ragazzi Da dove parto Questo È uno dei tanti bot Che si trovano Nella modalità Vamposto Ci sono dei soldati Che sbucano dal terreno E Zizi Avrà il compito Di ucciderli Mi piace Che usano Il pugnaccio C'è proprio quello Dei soldati È un puggy Soldato Infettato Quindi già questo è bello Ma una cosa Che non mi ha fatto impazzire È che c'è il piede Storto Quando cammino E questo mi dà un po' fastidio Inoltre anche il costo Secondo me è un po' troppo Ma è in questa posizione Perché comunque È fatto bene Anche il suono del jumpscare È bellissimo È proprio lui Che ti taglia la gola Con il coltello Alla Quarta Posizione Troviamo Berry Ragazzi Mamma mia Ragazzi È Il bot Della modalità Ospedale Una delle più difficili Ma non una delle mie preferite Ragazzi È È fatto bene È un orso Con un vestito blu Sapete Stavolta È l'unico Personaggio Di cui preferisco Il remake Che hanno fatto Perché dà più senso Perché È È Ispirato Al personaggio Di Peppa Pig Il dottore Orso Bruno Inoltre Si trova anche Nella modalità ospedale Inoltre Nel remake È vestito Da camice Di dottore Mentre nell'originale Era solo Un vestito blu Ma è una cosa Che mi fa impazzire Oltre all'estetica E al jumpscare È l'arma Con cui ci uccide Una grande forbice Che ci viene Conficcata Da lui Nel jumpscare Ragazzi Penso sia Una delle migliori Skin dei Pig Alla terza posizione Entriamo in top 3 Troviamo Robby Mamma mia Robby ragazzi Era il mio Piggy preferito Ma poi N'è entrato uno Che gli ha rubato Il titolo È il bot Della centro commerciale Ragazzi Da dove partiamo L'estetica Un Piggy robot Con un occhio Saltato fuori Che Già la musica Di quando cammina È bellissima Ma l'arma Penso sia La più bella Del gioco Perché quelle Di Bulgy E Torcher Sì sono belle Ma sono le più devastanti Mentre quella di Robby È la più bella Al posto del braccio Lui ha una motosega Non proprio motosega intera Ma ha una sega Con cui ci uccide Nel jumpscare È bellissimo Anche il suono Del jumpscare È bellissimo Ragazzi Mamma mia Non potete immaginare È uno dei Piggy Più belli Infatti l'ho messo In terza posizione Ed è anche Molto Incazzato Cioè si vede Proprio da lui E penso sia L'unico Penso Secondo una teoria Penso che sia Un robot Creato da Mr.P Perché non sembra Una cosa infettata Ci sembra proprio Creato Cattivo Alla seconda posizione Troviamo Clowny È il bot Della mappa Carnevale Ed è un clown Penso sia L'unico umano Insieme a Torture Diventato Cattivo Perché Partiamo Dall'aspetto estetico Un clown Molto inquietante Con una musica Inquietante E il martello Il jumpscare Ragazzi È uno dei migliori Mamma mia Con lui che ride Ci distrugge Pranente la testa Con il suo martello L'unico difetto È che Quando ci colpisce con un martello Si sente il suono Di quando ci colpiscono Con una spada Non dà molto senso Avrebbe preferito Più un bong Oppure il suono Di quando Un suono divertente Di un bong Avaro Un suono divertente Di un bong Quando qualcosa Viene colpito Da un martello Attribuito spesso A clown Ma prima Della posizione Numero uno Come facciamo Nelle classifiche Generali E alcune Menzioni D'onore Giraffe Molly La Piggy Originale La nonna E anche Il pappagallo C'è quello uscito Recentemente Ah E anche Bulli C'è il toro Col trapano Che però Non ho messo in classifica Perché secondo me È abbastanza Dimenticabile Mentre Alla prima posizione Non è molto scontato C'è Dino Piggy Mamma mia Ragazzi Dino Piggy È il mio Piggy preferito Perché Allora Di estetica 10 su 10 È un dinosauro Con gli artigli Con cui ci uccide Il jumpscare È il più bello Di tutti i Piggy Perché secondo me Con il suono che fa Lui ci Trafigge Con questi Con queste unghia Che ha Con questi artigli È il suono che fa Quando cammina Rimanda molto Ai dinosauri Ed è bellissimo Mamma mia ragazzi Di no Piggy Costa pure poco Secondo me andava Dove essere Tipo 300 350 E niente ragazzi Questa era la classifica Dei 20 migliori Piggy Del gioco Fatemi sapere la vostra Noi ci vediamo direttamente Alla prossima Bella ragazzi Grazie a tutti